In lacrime, Alfonso Signorini ha condiviso una notizia sconvolgente riguardante Mirko Brunetti e Perla Batiero. Prima di continuare con questo video, ci teniamo a chiedere il vostro supporto, semplicemente cliccate sul tasto iscriviti e lascia un mi piace al video. Grazie mille. Durante l'ultima puntata del Grande Fratello, Alfonso Signorini ha focalizzato l'attenzione su Mirko Brunetti e Perla Batiero, una coppia che continua a tenere banco nonostante Mirko non sia più nella casa. Un recente bacio tra i due ha entusiasmato il pubblico, ma le parole di Signorini hanno scatenato un vivace dibattito. Il conduttore ha analizzato la dinamica tra Mirko e Perla, le cui parole hanno rapidamente fatto il giro dei social. Entrambi hanno espresso i loro sentimenti sulla loro attuale relazione. Mirko ha manifestato sicurezza e felicità nella scelta di stare con Perla, nonostante le sue perplessità riguardo alla vicinanza di lei con Alessio Falsone. Perla, d'altra parte, ha confessato di voler ancora essere con Mirko nonostante le incertezze sul futuro. Nonostante le loro dichiarazioni d'amore, Signorini ha sollevato dubbi sull'autenticità dei loro sentimenti, notando una mancanza di quella luce negli occhi che tradisce un amore vero. Nonostante le smentite da parte dei diretti interessati, i dubbi persistono, lasciando il pubblico in trepidante attesa per vedere come si evolverà la loro storia. Fateci sapere cosa ne pensate con un commento e inoltre vi ricordiamo un piccolo supporto, semplicemente cliccate sul tasto iscriviti e lascia un mi piace al video. Grazie mille. Grazie mille. Grazie.